La regione siciliana ribadisce la propria volontà di autorizzare l'installazione del telescopio FlyEye dell'Agenzia Spaziale Europea sul Monde Mufara nelle Madonie, con la contestuale realizzazione di un osservatorio astronomico. Un'occasione di grande visibilità a livello mondiale per la nostra isola, che non intendiamo assolutamente perdere. Proprio per questo motivo stiamo lavorando per trovare la soluzione idonea. La nuova costruzione infatti ricade nella zona del parco, oltre 1850 metri di altezza, dove vige un divieto di inedificabilità assoluta prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Lo dichiara il Presidente della Regione Renato Schifani. Per superare questi vincoli, prosegue Schifani, il Governo regionale ha proposto durante l'esame della finanziaria un'apposita norma, la cui approvazione da parte dell'Ars in maniera diversa dalla sua originaria formulazione non ha consentito di derogare alle disposizioni vigenti. Stiamo già procedendo a perfezionare il provvedimento, nel contempo abbiamo avviato anche un'interlocuzione con il Ministero dei Beni Culturali, competente per materia. Proprio più di un mese fa avevo rassicurato in tal senso il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, sull'intendimento della Regione a trovare la soluzione. Le polemiche di questi giorni da parte di qualcuno sono quindi assolutamente fuori luogo e strumentali.